Vittori in Dukosmu So live Do 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 Vittori 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 L着 Vittori Vittori Kou Vittori Andrea è la che è di andare a s'amparo Andrea come στο canale e poi in Italia ha perso un po' la mia moglie si dice quindi non si dice non si dice si dice si dice si dice c'è simulating una postera che si dice che dice che dice I'm going to go to the pannone, scrivo le scotterelle Now I'll do a live, so I'm going to go to the pannone Non so I don't know who it is Let's start from the beginning and start to the pannone and start to the pannone so you can see the names of you and write the scotterelle Go to the pannone Wow, I'm going to go to the pannone It's a pannone Sì? Sì 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 la 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 Grazie per la visione! 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 Grazie! Grazie per la visione! 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 La visione! La visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Viagreau! Vaiшей la visione! She ishkapitali! Viagreau! Grazie per la visione! Viagreau! Grazie a far bouffa! Sto mai... E a gatti che l'oroina nola... Maria mi hai blancho... Andrea mi hai blancho, mi hai usurpat Andréa, non mi preoccupi con la squadra. Rai, sei la la gara, è quello che mi guida è la mano. Andréa, ora mi preoccupi di questa squadra. Ma, non mi preoccupi di questa squadra. Andréa, puoi andare a la squadra. Uuuu... Uu, paura! Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie 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 non lo canto 50 counting? non lo canto Chi è me lì? Chi è me lì? E' più 150, 151, 12, 95 E' più 95 Opa, non è lì? Chari capolini Chi è me lì? Chi è me lì? Electro Sì l'ultimo Non mi sono mai avuto, ma non mi sono mai avuto. Ma sono i pezzini. Ah, amici, c'è un lanciro? Ah, ok, ora è un lanciro. Ah, è un lanciro. Voi? 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 C'è un po' di più, e un po' di più, e un po' di più. Bravus! E'la, me cèi! Me cèi! Puntò, 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 puntò! Rè! Puntò, ricoptero, muù! E'n'xerrat, p'arca nè, s'coccavo! Pù è piè? E'ci' un'attòma! Cosa mi to' ccolepsè? Rè! E' un'està? Ah, c'è un'està? Ah, puntò, mi è? un'està! Nòc! C'è un'està? E' un'altra cosa che vengono a prendere. C'è un'altra cosa che ti ho avuto. Quanto è un'altra cosa che vengono a prendere. C'è un'altra cosa che vengono a prendere. Sì, non lo so. E' un'altra cosa che vengono. Si, qui vengono a prendere. la lascia vadza la chi fiaống Huh ben ti było Ya hai tu spasne GNI Né fiatas šmaisu Fiatas šmaisu Non so ���avamo G cantっていう e ove più erano i giovani razza 338.95 in tacosa scusa Sì! 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 Oh, no lo so! Oh, no! Oh, no lo so! Oh, no lo so! Oh, no lo so! Oh, no! E' lo so! Ré, tu è giocato il motore. Tu lo so! E' lo so! E' lo so! Ré, è... Ré, non c'è un po' non c'è un po' e' lo so! Non c'è un po' E' lo so! Chiesa Nè, rè, sei capo'nato che hai, Dremani Tocca negano, Tocca Ego, 94, 95 pink 94, 95, 96, 99 Pisa ma snipe Pisa, scappo, non ha spirovoli se me snipe Daxi, per come? Eeeh Non c'è più un butacchiare C'è un nooo, un grenade Poi che? Eh, c'è una opera che ha fatto un altro Pirovola, pirovola, pirovola Oh, non c'è l'acqua Pirovola, ma non è un' Pirovola, ma non c'è da bittà Eh, ma non c'è da bittà Eh, ma non c'è da bittà overse Sta a cantare quello che avessano io vi è una , lo virus un giù con una che finisce giù 5 5 1 raccoglio Non lo so, non lo so. con lo app trade che ora non c'è un live ma non c'è un live ma 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 compito il mio figlio vieni il mio figlio oh rè e che ne sono più più persone va me l'esi, va me l'esi, va me l'esi, prima! Aiuto! Sì 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 C'è stato il chest? Perciò a spotterà A spotterà da muovere il chest C'è stato un lock money money? O Mario! E' il chest che è un bocchino sniper che c'è un uomo E' liceo! 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 Charger! Exact! E' l' sever! E' visielle il wait! E' l' moment c'è Corps medic! Et rompino! Di l' Danke. No, 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 no. Oh, c'è un po' di fronte! E' un po' di fronte! E' un po' di fronte! E' un po' di fronte! C'è un po' di fronte! Pieni, è perché si è in capta di bari! E' un po' di fronte! N'ai, dire! Oh, ma caz... Iniamo! E' un po' di fronte! E' un po' di fronte! Che li ho? E' un po' di fronte! Il Marvel! Perissimo! E' un po' di fronte! Vini è? Taslo! Il rosa e con uno più giro. Ok. Prendi qui! Per me. Iniziamo a me. Il rosa e il tiontino. Il rosa e il tiontino. Voi da la mia! Voi da la mia! Sì, sono andato! Sì, sono andato! Voi? Voi lo so, vieni! Nog! Tieni da l'anno! Un giusto! Un giusto! Voi da l'anno! 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 Facciamo! Sì! 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 Io avevo un' attimo a questo, che è tutto, che ho vostato! E lo fa mi giro! Che. Mire poi anche io sono 1099. E per 320! Dav no... Sì! Non so, 4 milioni! Punti, fai se Camorripoot, rè! Rèo, puseppià, Don Camorripoot, e piattigin' giù zo vlatas! 6, 5, 4, 3, 2, 1... C'era, è tan' ωraio! 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10... 3, 2, 3, 3, 4, 1... 3, 2, 1... 3, 2, 3, 3, 4, 1... 4, 2, 1... 5, 1, 1... E' una buona Che è l'uomo che mi ha mostrato che mi ha mostrato il trattato? E' un'uomo un'uomo Ah! E' un'uomo! E' un'uomo! Voi provo! E' un'uomo! E' un'uomo! se lo è che pronuncia B messo fai Hai сделать i gli doro significa un prote 재밌 investe hai ma si tiene come su io però è troppo sono Sì a me, perché non c'è qualcosa di scegliere. Poi, bravo, passola? Cosa è l'auto? Cosa è un'auto? Sì, non lo so, non lo so. Qui è essere un'accoma? Dite! Per non ci sarà un'accoma un'accoma. Vedi Ana v dunque stai quelli di un'accoma! Fai un'accoma! Fai un'accoma! Si non è venato un'accoma! Si non è venato un'accoma! Tanto attara l'accoma un'accoma! Fai un'accoma! Sì, vieni ad ora! è il QAP, io sono il QAP, io sono il QAP E mi sfida di quello che ero Neeeeee è il QAP, io ho un QAP, io ho detto che non ci ho fatto Poi? Mi ha un QAP Non ho materiale Knock Non è vero Rè! 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 Con il ruisse. Rè! È vero! Rè! Anna, ti dà le fracce per il tuo mamma, il tuo merlo e merlimbo e non vanno in pescita lui. E chiudono per un anno che abbiamo? Eccolo! Ma ti provate. E ti dà il tuo primo stato? Me? Ok. Qu'è? Yeah, me di wille! Oh, no, io sono un mare, no. E non mi troppo davanti! Tutto il governo Ré! Ehm, mazzемся! Mazzuk! Ré! Poi, mi puoi imparare een bazooka? Ch biganer! Mazzuk! Ampere, mius? Mazzuk! Lassuk! Ehi! Mazzuk! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.